Salve a tutti ragazzi, io sono Filippo e vi chiederete perché ho il cappuccio che sembra un assassino di altri tempi Beh, primo siamo in periodo di Halloween quindi un po' di terrore deve esserci, infatti non vedete, vi sto spaventando eh E l'altro invece che senza il cappuccio vi spaventereste di più perché ho un diavolo per capello, quindi meglio che non me lo tolgo E oggi siamo su Call of Duty Advanced Warfare Sopravvivenza Ecco stiamo per partire ragazzi Oh porca ma che razza difficile mi hanno messo Non contate sui rinforzi, purtroppo sono impegnati altrove, buona fortuna Ma grazie seto, bravissimo ciao Ma che razza di arma mi hanno dato, ah benissimo, ah benissimo già Creppo, si benissimo, 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 cosa vuoto ti guarda, va, 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 ti ammazzi, benissimo, bello questo mio va meglio Ora mi sta il Giacobà, mi sta il Giacobà, mi sta il Giacobà Dai sì 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 Quanti cavolo siete no dai no 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 non puoi farmi questo ho già preso una rianimazione siamo al primo round benissimo dai dai che ce la facciamo dove sei che ti morisse che ti morisse il cane nemici eliminati chi è il pro chi è il pro il pro la proagine ovvio è grandioso che cosa ci sono i rati bellissimi salti bellissimo bellissimo dai 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 no no squadra i sensori rilevano unità nemica dirette verso di voi lascia perdere unità nemica ragazzi ragazzi dai adesso ci siamo dentro si 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 crepa 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 morire abbiamo perso rientrate subito alla base benissimo ragazzi sono stato davvero bravo non trovate c'è il pro voglio la rivincita 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 non mi riporta cosa mi dici ok rieccoci tornati nemici in arrivo le squadre di recupero sono disperse perciò dovete cavarvela da soli no questo qui era un punto dove mi sono fregato eh dove attaccano fatemi vedere fatemi vedere bastardi bastardi boom baby madonna moris no non credo sono già morto no se il gioco è arrivato crepa crepati tutti crepati tutti crepati tutti ci sono altri? oh si baby nemici eliminati ok ok il futuro è per le armi il futuro è per le armi il futuro è per le armi dov'è 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 forza corri forza forza accessori accessori lanciatore exo benissimo benissimo ho preso le munizioni squadra i sessori rilevano unità nemica dirette verso di voi si infatti rilevo il tuo suocera che sta venendo verso di me no non posso andare per di lì mi sono scavato la fossa che repa non posso essere lì già no non ero pronto non ero pronto e vabbè tonona in cariola che vengi a quelle mutande viola sento proprio eh niente da fare vada vada bellissimo bellissimo quando muovi così sennò in carlof di ultima c'è davvero schifo si 3 miliardi di nemici proprio eh peo molto bello vada in gear last of war sono un propero ok siamo tornati adesso ho cambiato mappa dai adesso voglio fare il culo a tutti bellissimo eh beh questa mi piace cavolo eh per questo squadre di recupero sono disperse perciò dovete cavarmela da soli siamo su ascend possibile madonna mia non è ancora più veloce bella bella giusto oh mamma mia questa è un'arma del il mondo mamma 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 muori muori no 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 mi maravecchi ma sì Sì, questo mi piace, questo mi piace. Eh, bellissimo. Dai, mia nonna corre più veloce! Occhio, arriva brutta compagnia! Ah, munizioni al massimo, fantastico. Brutta compagnia? Chi è? Toffiola? Oh! No, ma sono serio! Bastardi, mi avete preso le spalle! Bastardi, bastardi! Che bevegni e che goto con queste maglie patrime tigiani! Muori, muori! Dio! Sì, è così che dovete crepare tutti, crepate tutti! Crepate tutti! Minchia, mi becchi! Sì! Sì, ragazzi, incredibile, questo è l'exo più incredibile del mondo. Fantastico! Alla munizione al massimo, trallalalala! Beh, sempre corre lento più di una lumaca, però almeno è forte. Qua mi viene lo scavato, la busa... Ah, scendo e voglio l'ascensore! Dovrebbe essere un ascensore! Io cambio posto! Io cambio posto per con la sensazione di tirarmi a sapone nel piede... Sto lì! Ma io sto lì perché io sono... Un macio! Io sono macio, io ammazzo tutti! Ne arrivano altri! Acquisire informazioni dai nemici caduti! D'accordo! S'ha voto, sìure! Eh, s'ha voto! S'ha voto, con s'ha voto a rompermi in mano! Dov'è? Muori il carrello! Informazioni! Arriva un lancio di supporto! Supporto, voglio il supporto! Copi, copi! No! Abbiamo perso! Rientrate subito alla base! Sono durato più a lungo però! Non è giusto, bastardi! Bastardi, mi avete colpito alle spalle! Mi avete colpito alle spalle quei brutti bastardi! Mamma, mamma! Adesso le faccio vedere, voglio fare un'altra parte! Stiamo per ricominciare, ragazzi! Dai, forza! Nemici in arrivo! Ho sempre lo stesso Exo! Non sono disperse! Siamo... Perciò dovete cavarvela da soli! Resistete il più possibile! Tua suocena resiste! Vulcano alleato nell'area! Paronne, ragazzi! Questo non l'avevo mai provato! Una roba fighissima, eh! Tu ti crepi, tu crepi! Ma non lo zappano! Confermato! Nemici eliminati! Oh, yes, baby! Oh, sì, oh, sì! Oh, yes, baby! Eh, questo Exo io pensavo che lo specialista fosse il migliore perché ce l'aveva allo scudo! Mila piscina! Adesso non c'è più il vero! Ah! Eh, al posto di questo! Ah, hm! Fatto! Molita nemiche in avvicinamento! Quando ci vuole ancora per... ...coso il Vulcan! Puff, ma madonna! Apre un colpo ma fosse stato in Slenderman! E ho Puffi! Bastardi, 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 bastardi! 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 Capà! Oh, yeah! Terminati! Adesso potete rifornirmi! Mi rifornisco, certo! Va bene, ragazzi, dai che ce la facciamo! Dai, questa è una volta buona! Benissimo, va bene! Può andare così! Abbiamo un po' di tregua! Io mi faccio usare un bagno e piscina! Ma che piscina è questa? Che piscina è? Ci posso camminare? Beh, sono Gesù! Ragazzi! Ah, ecco Gesù che cammina sulle acque! Corre addirittura! I sensori ricevono bombe MP! Disinnescatele! Oh, cavolo! Addirittura disinnescare le bombe? Davo! No! Lancio di supporto e corso! Uh, fantastico che roba è! No! Potete fare di meglio! Tua nonna fa di meglio! Tua nonna! Tua nonna! Vara, vara, vara! Vara, vara, proprio lì sul più bello, sul più bello! Volevo vedere cos'era quello! No, mi devono occupare! Mi devono occupare! Sono le robe che mi fanno in bestia a dire, ma a sé, ragazzi! Va bene, ragazzi, per questo video è tutto! Perché mi sono tolto il cappuccio? Perché è un caldo boia! Eh, sì, mi fanno sempre... Avete visto la proagine, vero? La proagine su Call of Duty, bellissima, eh! Infatti lo rifarò, devo rifare... Lo rifaccio, ditemi se volete che continuo a scervellarmi cercando di fare andare round, perché... 49 per sbloccare altre mappe, eh! Ne ho fatte vedere tre, ne manca un'altra! Ho solo quattro mappe! Ehm, vabbè... Se volete che continuo Call of Duty Advance, ditemelo... Se volete addirittura che faccia la modalità storia, ma che... Eh, non è così nuovo! Anzi, è il gioco più nuovo che ho giocato finora, eh! Ehm, quindi noi ci rivediamo nel prossimo video, sempre qui con moi! Ehm, alla prossima! Beh, ragazzi, un mi piace per la giacca! Mi raccomando, eh! Ehm, un mi piace se vi piace che io... Mi saltino i nervi! Ehm... Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!